La pagina sportivortiva con la pallavolo maschile alle 18.15 al Palabarton con diretta a Rai Sport. La Sire riceve Verona, serve vincere per mantenere invariato il vantaggio su Civitanova. Luca Pisinicca. Consolidare la vetta in vista del big match contro la Lube. L'obiettivo in casa Sire Perugia è ben definito, ovvero mantenere 5 punti di vantaggio sui cucinieri che Atanasievic e compagni affronteranno al Palabarton mercoledì 23 dicembre. Per farlo è necessario però battere Verona, oggi alle 18.15 con diretta su Rai Sport. Ogni partita è importante, ogni partita dà 3 punti e la prima partita a Verona è l'ora per noi di prendere 3 punti e di mantenere, di rimanere con 5 punti davanti. Salvo novità dell'ultima ora, i block devils dovrebbero partire al via con Travis in regia. Capitano Atanasievic in diagonale, Ricci e Sole al centro, Leon e Plotischi in banda, Colaci libero. All'andata Perugia si impose con un netto 3-0, ma il tecnico teme ancora qualche possibile contraccolpo dopo il lungo stop. Noi non giochiamo così stabile dopo Covid, è chiaro che noi cerchiamo il nostro meglio livello. Abbiamo fatto una cosa eccellente, vincere. Bambino, è chiaro che noi cerchiamo il nostro bisogno.